e torno la parola a chi me l'ha data all'inizio. Grazie. Prima di tutto questo scambio, questo confronto è stato seguito grazie al lavoro di Francesca Spanò in diretta dal sistema WISP quindi spero che abbia contaminato positivamente tanti nostri dirigenti che saranno affascinati da questa prospettiva. Oltre all'ingraziamento ovvio io vi voglio dare atto di una cosa come voi quattro relatori. Siete riusciti a dimostrare plasticamente come le contaminazioni dei saperi siano assolutamente possibili. È stato un divadito in cui c'è stato davvero un confronto di merito i vostri talenti, le vostre competenze si sono riversate su un punto focale e adesso non so quale esperienza abbiate voi. Non è proprio un risultato da poco. Come WISP siamo al vostro fianco e spero che sia possibile che noi riusciamo a facilitare una cosa che quello che ci siamo detti qui possa non solo essere l'inizio di una storia che può proseguire ma soprattutto che ci sia la possibilità di una disseminazione e di sperimentazioni sul campo perché credo che il risultato e l'obiettivo che possiamo raggiungere è il fatto che non ci sia solo una grande diffusione di queste tematiche che sono centrali ma la capacità a questo punto davvero di fare il sistema in massa critica e forse la nostra capacità di facilitatori può dare una mano. Quindi spero di darvi tanti appuntamenti. Rispondetemi al telefono se vi chiamo. Grazie a Daniela Rossi responsabile delle politiche per la salute del WISP e grazie a tutti per aver partecipato.